un saluto a tutti ragazzi benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la ferrari 312 t4 di Gilles Villeneuve 1979 edizione centauria il modello in scala 1 a 8 uscita numero 18 delle 110 previste video solo conferma sì 110 previste scusate ma sto facendo qualche collezione qualche collezione prevede 120 uscite alcune 110 come questa altre 100 intanto ringrazio tutti i miei iscritti tutte le persone che mi visualizzano grazie se avete piacere iscrivetevi al canale attivate la campanella sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato date anche un'occhiata alla playlist troverete altri modelli e non soltanto di auto e infine se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello mi può contattare privatamente grazie vedete ad alcuni di voi ho risposto nei messaggi di non tagliare i tubi ma di ordinarli con del filo delle cavetti d'acciaio oppure vediamo cosa troverò ecco vedete qui vi danno la stessa informazione per aggruparli quindi ecco quelli che vi sembrano lunghi non li tagliate assolutamente li ordinate così come avete piacere di fare voi e basta ringrazio anche a tutti i miei buonati che contribuiscono in maniera economica a sostenere questo canale casalingo ma ricco di passione e in questo nuovo numero il filtro dell'olio le tubature e i raccordi allora andiamo a vedere questo filtro dell'olio apertura semplicissima per questi sacchetti basta con il dito pollice dito indice appoggerlo qui sfregare e si aprono subito dobbiamo andare a recuperare questo che abbiamo trovato nell'uscita numero in questo caso mi sa sì 14 nell'uscita numero 14 abbiamo avanzato dal montaggio il tubo di gomma questo raccordo quindi prendete anche questo poi troviamo la base del filtro olio con i raccordi tutto quello che vedete in plastica non ci sono problemi il raccordo dei tubi benzina poi questo il tubicino connessione leva apertura valvole a farfalla questo più lungo è il tubo dell'olio motore poi abbiamo due tubi in silicone come quelli che abbiamo montato qui per la benzina tra questi tubi uno è più lungo e uno è più corto questo sarà sicuramente il più lungo comunque vediamo ecco qui questo è il più lungo metto qui a destra e questo più corto a sinistra e poi basta allora la prima cosa che vado a fare mi vado a preparare un po di colla prendo dell'epossilico bicomponente in parte uguali me ne servirà poco ecco qui lo potete anche trovare al vecchio brì come oggi si chiama tecnomat questo è possilico bicomponente costa sui 7 euro io mi trovo molto bene ma ci sono tante altre colle che vanno benissimo per il modellismo eh ragazzi l'importante è che non mi andiate ad attaccare seppur è un ottimo collante ma non per le gomme ecco i tubi con l'attac perché si cristallizza la gomma e poi si spezza allora prima cosa prendo un po di colla appena appena la metto qua all'interno e inserisco questo l'inserimento è univoco non vi potete sbagliare perché c'è un semicerchio all'interno ecco qui anche se in realtà io ho voluto incollarlo ma non serve perché oddio per me serve sempre perché almeno so che tocca da tutte le parti però questo segmento poi andrà a inserirsi qui in questa maniera adesso vi faccio vedere qui abbiamo questo perno che servirà poi per entrare in questo foro quindi questo pezzo poi verrà messo così ecco quindi in realtà non può andare da nessuna parte quel pezzo dorato però il fatto che io l'abbia incollato non mi si può spostare in questa maniera prendosi anche poco vedete metto un po' più di colla perché tanto è all'interno e non si vede eccolo qua il mio amore è arrivato Michelangelo un saluto a tutti quelli che lo salutano la mascotte del mio canale ecco adesso cosa vuoi fare amore tanto eccolo qui il mio amore quanto sei bello dai no 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 non mi snaccare i tubi eh per carità poi fermo poi prendo il tubo dell'olio motore quindi quello più lungo lo devo andare a inserire semplicemente qui un po' di colla all'interno senza esagerare di qua è già più largo ecco ecco questo lo metto qui incollatevi i tubi ragazzi mi raccomando altrimenti vi si staccano poi prendo il raccordo questo che va inserito qui in questa maniera uno qui e uno qui vedete probabilmente non serve mettere la colla ma io ne metto un po' lo stesso così prima di inserirlo però questo va messo abbiamo detto così prima di inserirlo mi vado a mettere il tubo qui quindi lo vado ad allargare un po' con uno stuzzicadenti attenzione perché è facile danneggiarlo e questo tubo qui così un po' di colla qui e inserisco il tubo ecco arrivate fino in battuta del collarino della plastica grigia non lasciatelo più in fuori non inserito fino in fondo è brutto da vederlo ecco qui da vedersi ecco qui adesso prendo questo devo semplicemente inserirlo qui e qui però fate attenzione perché il perno se schiacciate tanto questo arriva in battuta e non vi potete sbagliare ma questo se schiacciate fino in fondo entra tutto però poi vi sta storto questo pezzo quindi non va inserito fino in fondo va inserito sicuramente però non fino in fondo ragazzi questo tende ad uscire come mai mettiamolo un po' di più io non vorrei inserirlo fino in fondo vediamo un po' ah mi corrego pensavo che inserendolo fino in fondo pensavo in realtà è così però qua vedo che lo fa inserire scusate ragazzi sto ragionando a voce alta perché credevo che fosse più gradevole lasciarlo così che era più diritto però vedete se lo tiro fuori questo pezzo mi esce fuori anche dietro quindi facciamo così ma secondo me non si vedrà ma non era da inserire tutto questo dovrà rimanere così se solo fosse stato fermo questo ecco secondo me deve rimanere in linea e va inserito così non fino in fondo altrimenti è storto ma io poi piuttosto quale metto un pezzettino di nastro e non inserisco fino in fondo io lo lascio così poi prendo questo che vi ricordo che abbiamo trovato nell'uscita numero 14 dalla parte più piccola questa inserisco benissimo un po' di colla qua sta già diventando vedete non va già bene fila è potente questo collante però non mi ha permesso neanche guardate quando è così non la usate più perché non diventerà mai solida mi raccomando è come se voi interrompeste è probabilmente così l'indurimento non la utilizzate ve l'ho detto tante volte quando vedete che comincia a filare ecco usiamo questo termine che non è nemmeno improprio in questo caso perché fila proprio scusate il gioco di parole ecco mi è toccato farne ancora un po' e vabbè l'ho detto un po' e vabbè l'ho detto un po' l'ho detto che non è quanto ti amo michelangelo mio bello ecco qui bene questo punto vado ad attaccare questo in quest'altra parte qui questo prima lo calzo così aspetto un po con orevo metto la colla e anche questo è a posto così vedete mettendo la colla all'interno della gomma non vedete quel bruttissimo collarino che si formerebbe se io mettessi la colla sopra il perno perché la gomma entrando non farebbe altro che andare alla scherla colla raggruppandola tutto in fondo e sinceramente non è una cosa bella adesso allora è spiegato benissimo nelle istruzioni comunque come abbiamo detto prima il tubo destro è quello più lungo il tubo sinistro è quello più corto quindi con lo stuzzicadenti a parte che non serve perché questo è in silicone non serve allargarlo ragazzi perché tornerebbe indietro subito non è gomma è proprio tubo in silicone nessun problema tubo no 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 il tubo in silicone si dilata bene quindi un po di colla qui così questo è quello più lungo e lo vado a mettere da questa parte no fermo guardate bene il filtro anche se è spiegato molto bene nelle istruzioni non faccio altro che guardare quelle ok e lo fermo e lo metto qui questo è quello più lungo ecco e l'altro lo metto da quest'altra parte ecco poi come vi ho detto metterò un pezzo per tenere giù il perno ma non lo inserisco fino in fondo perché sarebbe sbagliato viene storto se io inserisco tutta questa plastica poi non si vede perché alla fine va messo così però non va in battuta questo perno deve essere una linea retta questa quindi va benissimo così bene io penso di aver finito ma dove ti sei appoggiato sui tromboncini amore meno male che non me li hai piegati ma sei terribile sei amore mio sei terribile ma quanto ti amo e le ho dovute spuntare le unghiette altrimenti anche soltanto a ad accarezzarmi con la zampetta a riposo con le unghie lui mi faceva male stai prendendo sonno bene ragazzi guardate che è bello questo pezzo è davvero bello vi ricordo questo tubo qui da questa parte dove c'è questo tubo nero che va lì in su che e poi io devo andare anzi lo farei subito devo andare a regolarizzare questo tubo che è tagliato di traverso ed è veramente brutto anche quando poi lo inserite è brutto per cui ecco qui così va bene e dicevo che è veramente un bellissimo pezzo che poi andrà messo qua come vi ho detto penso che questo andrà messo qui non lo so vabbè non penso niente bene ragazzi io vi ringrazio del vostro preziosissimo tempo un abbraccio sotto a voi tutti i vostri cari più cari questo è quello che troverò nella prossima uscita la numero 20 il sistema dei tubi di raffreddamento e lubrificazione del motore ecco qui guardate questa è quella che ho appena fatto tra un po anzi non serve già più neanche questo mi raccomando ragazzi datemi retta incollatevi tutti i tubi non bene se non se ne staccherà mai nemmeno uno non dovrete poi andare alla ricerca di dove va inserito e magari poi non riuscite neanche di metterlo dentro perché avete montato tutte le cose attorno mi raccomando questo è un consiglio che mi sento mi sento sempre di sottolinearvi eccolo che sta prendendo sonno guardate che bello io ho avuto cinque cani ragazzi non ho mai avuto un gatto questo chi mi ha seguito dall'inizio lo sa come ho avuto la fortuna di averlo però vi dico non pensavo davvero che fosse così affettuoso ho sempre avuto un'idea dei gatti che sono chiaramente indipendenti molto più autonomi ed è anche questa la loro fortuna molte persone famiglie scelgono il gatto proprio perché fa tutto in casa non lo devono portare fuori si pulisce da solo anche se poi le zampette un po le dovete pulire dovete un po sempre averne cura però non pensavo davvero che fosse così affettuoso è una cosa incredibile io posso toccarlo da per tutte non mi fa niente la pancia è la parte più vulnerabile dei gatti non mi fa assolutamente nulla anche che se mi morde non mi fa niente a me niente e non tutti i gatti si fanno toccare perché si fida sa che lo amo ciao amore mio guardate non tira mica fuori le unghie altrimenti mi ferirebbe immediatamente va bene amore ho capito va bene grazie a tutti di vostro preziosissimo tempo un saluto da me e il mio amore michelangelo per questo montaggio è davvero tutto grazie grazie ragazzi